Namaste, sono Ace the Brave e benvenuti ad un nuovo episodio di Snake Pick, la rubrica settimanale che vi porta a un gioco che deve ancora uscire. Oggi guardiamo un po' Jalapi, che è un termine un po' particolare per descrivere quello che in italiano chiamiamo come trabiccolo. Tra l'altro, piccola curiosità, trabiccolo in realtà è un attrezzo che si usava una volta e che adesso non si usa più, e adesso la parola trabiccolo la usiamo spesso per definire appunto la macchina sgangherata, l'automobile sgangherata. Jalapi è esattamente quello, e appunto è detto in maniera proprio slang, senza stare troppo attenti a come si pronuncia la parola. Questo è un gioco sviluppato da una persona sola, quindi è un po' un misto tra quello che potrebbe essere addirittura un episodio di Dare lo Dun Dare, ma volevo mostrarvelo perché è abbastanza interessante e man mano che aumenterà l'alpha, insomma, ci ritorneremo su questo gioco, che sembra abbastanza interessante. E' ambientato nell'est europeo, sembrerebbe, dalla Germania Est o qualcosa del genere, e il gioco è fatto in Unity da una persona sola, è in pre-alpha 0.4, lo trovate su Steam, e la cosa interessante è appunto c'è questa grafica stilizzata, ed è, come dal punto di vista del gameplay, della giocabilità di questo gioco, è un misto tra quello che è un car mechanic simulator, quindi riparazione, macchina e gestione di quello che è il motore e tutto quello che riguarda il nostro trabicolo, appunto, e però con una storia, quindi abbastanza particolare come unione di due generi, o comunque unione di due tematiche abbastanza interessanti. Quindi, bando delle ciance, andiamo a iniziare un nuovo gioco e vediamo un po' che cosa ci offre questo jalopy, da parte del signor Grang, che l'ha creato, intanto avete visto, è già caduto un pezzo di macchina. Il gioco è in inglese al momento, quindi vi farò velocemente vedere la storia, per quello che ne so. SVEGLIATI! Oh, ti sei svegliato. Stai ancora a letto e perderai la giornata, praticamente. Guardate già lo stile grafico con la giacca di questo personaggio qua, che ha un effetto un po' strano. Comunque, ho qualcosa di importante da fatti vedere. È qua fuori. Comunque, è un gioco in prima persona, come potete vedere. Questo è lo stile, vedete, con tutta questa cosa fatta in Unity. È uno stile scelto, abbastanza interessante, di poligoni, però con le ombre, con i colori che sono piatti, se vedete. Non ci sono ombreggiature di nessun tipo, se non appunto quelle che vengono disegnate lungo i muri. Ma è tutto in questo stile con colori piatti, con tonalità, vedete, abbastanza... Abbastanza... Scialbe, spente, diciamo così. E questo è un po' il tema. Quindi andiamo a parlare con lui. Questa è una Leica 601 Deluxe. Ed è la nostra Jalopy. Nostra piccola. Un'ingegneria della leggenda del GDR. GDR credo sia la Repubblica Tedesca Germanic Democratic Republic. Credo sia la Repubblica Tedesca, la Germania dell'Est praticamente. Quindi siamo prima della caduta del muro. Da 0,60 km in 22 secondi e mezzo. Una velocità di 100 km all'ora al massimo. E un rate di 9 km al litro. Che per chi conosce un po' le macchine sa quanto sono alte queste prestazioni, insomma. Sempre se riusciamo a farla andare. Ma non preoccuparti. Ho tutto quello che ci serve. Dobbiamo solo costruire il motore, metterci le ruote, mettere a posto la portiera e dargli una bella pulita. Quindi iniziamo mettendolo sulla porta. E quindi come potete vedere abbiamo il gioco che si sviluppa, il Fusquint. Ok, tra l'altro abbiamo appunto, ci muoviamo con WSD, abbiamo il mouse per poter vedere in giro. Abbiamo Shift per poterci chinare. E possiamo interagire con le cose. Adesso vediamo un po' come. Questa quindi è la nostra macchina. Adesso vedremo di ripararla. Vedete che ci mancano le ruote, ci manca il motore, ci manca tutto ancora. Quindi vediamo per iniziare di andare da questa parte a prenderci la portiera della macchina che è qua. Ok, ah ok. Squinte se zoomi. Con il tasto destro possiamo zoomare. E come potete possiamo interagire con le cose. In questo caso abbiamo preso la portiera della macchina, veniamo giù e vediamo di metterla qua. È figa, è elegante. Adesso vediamo di mettere il motore. Quindi vediamo di aprire la parte da questa parte qua. You see a black latch. Ah ok, dobbiamo aprire la portiera. È tutto manuale ed è molto, tra virgolette, realistico perché dobbiamo interagire proprio con i singoli pezzi. Quindi è anche un pochino, un tutorial su come funzionano effettivamente le macchine. Non è così dettagliato come un car mechanic simulator ma... E devo dire che è divertente. Quindi abbiamo quella che è la leva per aprire avanti. Quindi niente cruise control, finestrini. Abbiamo la manetta con i finestrini o la manovella, insomma. Per aprire quello. Quindi abbiamo la levetta per aprire il cofano. Vediamo di aprire il cofano e vedete che non c'è il motore. Quindi vediamo di dargli un motore. Vediamo ci dice di andarlo a prendere nelle parti di stock. Credo sia qui. Le parti di stock, sì esatto. Si apre, bello il fatto che ci sono piccole cose anche proprio per quanto riguarda la creazione di videogiochi, secondo me. Uno entra dentro e non sa se andare di qua o di là. E questo si è aperto nel momento in cui è andato dentro, quindi attira la mia attenzione qui. Qui abbiamo un po' di pezzi. Quindi intanto ci viene chiesto... Vedete abbiamo i vari pezzi della macchina. Abbiamo la batteria, questo è l'iniezione. Abbiamo il water tank, l'acqua da portarci dietro per raffreddare il tutto e non solo. Un carburatore, una tannica di benzina, il filtro dell'aria e il motore. Quindi prendiamo il motore, prendiamo anche il filtro e prendiamo anche questo... Possiamo prendere fino a tre? Sì esatto. Possiamo prendere fino a tre cose e portarcele in giro. E vediamo un po' di... Ok, quindi vediamo di mettere il motore. Vabbè qua ci dice appunto la... Come facciamo col motore? Ok, lo possiamo... Lo selezioniamo in automatico. Poi abbiamo il filtro dell'aria. Che non è necessario averlo. Il motore sì, ma il filtro dell'aria non proprio. Ok, mettiamolo comunque perché ce l'abbiamo. Abbiamo il filtro dell'aria appunto da mettere sopra che aumenta un po' le caratteristiche. Abbiamo la... L'acqua da mettere qua. Quindi abbiamo tanti pezzi e ovviamente questo gioco ne fornirà altri. Quindi pezzi di ricambio eccetera per metterli su e cose varie. Poi che cosa abbiamo ancora? Allora abbiamo detto abbiamo... Questa che ci serve perché se no la macchina non parte. Il carburatore che ci serve perché se no non avviene una miscela e non possiamo farci un cacchio. La batteria perché se no la macchina proprio non parte neanche. Quindi abbiamo pezzi necessari. Alcuni pezzi non sono proprio necessari. Ovviamente abbiamo la tannica di benzina. Il problema è che per fare il pieno dobbiamo caricare proprio la tannica alla vecchia maniera. Il motore che abbiamo è un motore due tempi e quindi abbiamo bisogno... Two stroke engine se non sbaglio vuol dire... Si traduce in italiano come due tempi. Il che vuol dire che abbiamo bisogno anche dell'olio per la mistura. E ovviamente se non abbiamo l'olio non possiamo fare la mistura e quindi non funziona. Chi conosce un pochino di macchine saprà queste cose insomma. Ve le ricorderete. Allora intanto mettiamo la tannica di benzina appunto che ha bisogno della benzina. Abbiamo il carburatore. Il carburatore serve a creare la miscela. E devo metterlo dove? Immagino debba metterlo qui. Esatto. Il carburatore è qua quindi questo... La benzina vada qua dentro al carburatore. Il carburatore lo passa al motore e avviene le reazioni e tutto quanto. In più abbiamo la batteria ovviamente che serve per iniezione e fare funzionare tutto quello che c'è di elettrico tra virgolette qua dentro. Dico tra virgolette perché veramente c'è poco e niente di elettrico. Però è la complessità anche di una macchina così antica diciamo. Potrebbe essere molto interessante scoprirla per capire effettivamente da dove siamo partiti per avere le macchine che abbiamo ora. E questa è l'iniezione ovviamente. L'iniezione appunto prende l'energia elettrica... Serve a far partire il motore e tutto quanto. Si chiama proprio iniezione e la mettiamo qua. Dove va l'inizione? Ah ok l'inizione va là giustamente. Questo va qua e questo va qua. E come vedete abbiamo oltre all'iniettore abbiamo un paio di altre cose aggiuntive. Comunque abbiamo installato tutto quello che c'è. Adesso dobbiamo ovviamente metterci la benzina e tutto il resto ovviamente. Cosa abbiamo da inserirci come liquidi? Abbiamo tre liquidi che sono l'acqua... Questa è la benzina, questa è l'acqua e questo è l'olio motore. E come vedete ciascuno di questi... Il bello secondo me di ciascuno di questi è che viene utilizzato in prima... La visuale di prima persona è abbastanza interessante perché ci mostra alcune informazioni aggiuntive. L'oggetto attivo in questo caso è quello più a destra di tutti. E come vedete ci dice quanto piena è la tanica con quella striscia arancione che vedete. E poi ci mostra anche a quanto costa e a quanto lo possiamo vendere. In questa... In questa cosa abbastanza strana. La tua giacca è abbastanza imbarazzante ma allo stesso tempo è... Come si dice? Coglie l'occhio. Vediamo allora di utilizzare questa. Vediamo di riempire... Qui come vedete qua dice che questo è un motore che poco... Scusate questa è una tanica che può tenere 10 litri e deve avere l'olio. Ed è il motore standard della Leica 601 Deluxe. Come potete vedere c'è scritto che al momento c'è un litro d'olio su 10 possibili. Non c'è un litro di benzina su 10. Non c'è olio. E pesa 6 kg. Quindi vediamo... Ok. Andiamo di metterlo qua. Come vedete stiamo svuotando la nostra tanica. Adesso la tanica è vuota. E possiamo lanciarla via con Q. Poi abbiamo l'acqua. L'acqua la mettiamo ovviamente nella tanica d'acqua. Quindi qua. Perfetto. E lasciamo la via. E poi abbiamo l'olio. Non abbiamo... Abbiamo ancora un po' d'acqua in realtà. E appunto l'olio come funziona. Adesso ve lo mostro. Prendiamoci l'acqua perché magari serve. Lo possiamo portare dietro. Mentre possiamo mettere il... Ok. Possiamo mettere l'olio qua. Abbiamo già finito? Ok. Come potete vedere adesso c'è scritto che abbiamo l'in oil mix. Cioè abbastanza blando come olio. Ovviamente più olio mettiamo, più diluiamo la benzina con l'olio. Non so esattamente il termine tecnico ma più o meno diluiamo, mixiamo insomma le due cose. Più funziona. Ma tra l'altro dovremmo avere un po'... Ah ok. Con la rotella cambiamo l'oggetto. Possiamo mettere ancora un po' di più. Ok. Possiamo mettere anche ottimale se premiamo un paio di volte. Se premiamo ancora una volta abbiamo l'olio lì. Ricco. Ok. Detto questo possiamo rilasciare tutto. E adesso vediamo cosa ci dici. Vuoi le ruote? Perfetto. Andiamo a prendere le ruote. Mio zio, cugino, come ti chiami? Ovviamente abbiamo bisogno del cric per le ruote. Quindi andiamo a prenderci il cric. Immagino sia qua. Perfetto. E ci abbiamo il cric. Ci abbiamo una, due. Questo personaggio è fortissimo. Riesce a portare due ruote e il cric. Ok. Quindi vediamo di mettere il cric. Posso metterlo qui. Mi fate mettere qua il cric. Magari devo chiudere prima la macchina. Magari devo chiudere la portiera prima. Chiudiamo anche questo. Ok. E adesso abbiamo questo. Che ci permette appunto di alzare la macchina. Adesso possiamo mettere le... You notice the tire iron, but you need to fit the road tires. Go ahead and drop that. Notice you can now use the tire iron, but first you need... Possiamo mettere la ruota qua? Ah ok. Perché in mano avevo anche l'altra cosa. Perché in mano avevo il pezzo... Quando usiamo il cric abbiamo ovviamente il pezzo per poterli mettere a posto. Quindi adesso possiamo andare a fissare questa. Ovviamente tra l'altro, cosa abbastanza insicura, il fatto che... Queste ruote hanno un solo di questi. Quindi nel momento in cui hanno un bullone solo. Quindi... Quello che è. Vediamo di chiudere questo. Ce lo riprendiamo. Andiamo ad alzare il cric dall'altra parte. No. Cric qua. Perfetto. Andiamo a prendere le due ruote. Perfetto. Possiamo... Alzare questo. Questo devo tirarle via perché se no non posso usarla. Prendiamo una ruota. Possiamo pizzare le ruote? Ah giusto. Devo... Devo... Devo prima usare questo e poi usare questo. Possiamo fare la convergenza da soli tra l'altro. Mettiamo l'altra ruota. Chiudiamola. Perfetto. Adesso abbiamo da tirare giù il cric. Vediamo cosa... Vediamo cosa... Sì ok. Mi dice di mettere quello che ci serve nel... 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 Nel bagagliaio. Vediamo l'ora di prendere questa. Ce la portiamo dietro. Questo ce la portiamo dietro. Portiamoci dietro tutto quello che possiamo. Apriamo il bagagliaio. Mettiamo via il cric. Mettiamo via la benzina. La tannica di benzina ci servirà perché abbiamo bisogno di... Se abbiamo bisogno di far benzina nel mentre dobbiamo metterla da qualche parte. E mettiamo via tutto. Chiudi qua. Abbiamo qualcos'altro a portarci dietro? Pezzi di ricambio, roba di riserva. Chiudiamo questi scaffali. Possiamo chiudere anche questo? No, questo rimane aperto così. Siamo nel giugno 1990 tra l'altro come potete vedere. Quindi probabilmente il muro è appena caduto. Vediamo un po' se ha a che fare qualcosa con il tutto. Possiamo andare dentro la macchina adesso. E adesso cominciano le difficoltà secondo me. Ciao caro. Questo è il manuale di manutenzione. Quindi prendiamo il manuale. E come vedete lo apriamo. E ci leggiamo insomma un paio di cose specifiche. Quindi molto molto dettagliato secondo me come cosa. Quando hai finito appunto puoi usare Q. E questo andrà automaticamente nello scomparto qua. Poi che cosa hai di bello? Hai la mappa con scritto DDR sopra tra l'altro. Giustamente siamo in Germania. E quindi qua possiamo scegliere dove andare. In questo caso... Se il gioco ce la fa, perfetto. Ah, ha cominciato a piovere. Mi ha selezionato in automatico la prima strada allora, probabilmente. Comunque sì, possiamo selezionare quale delle tre zone. Probabilmente mi ha selezionato in automatico. Dobbiamo andare a casa. Come vedete noi partiamo da una parte, abbiamo 210 km da fare. E li facciamo sotto la pioggia. Che non sarà tanto bella come cosa. Ok, qua come vedete abbiamo una serie di cose. Il mouse mi è sparito perché si vede... Ah, ok, si vede tantissimo piccolo. Tenete conto che il gioco è ancora in pre-alpha. Quindi c'è ancora un macello di cose. Premendo il tasto centrale, appunto, mettiamo la mappa. Poi se io voglio prendere la mappa, me la ripremo e me la riapre. Quindi mi piace tanto la manualità di questo gioco. Il fatto che ogni singola cosa è da... Da cliccare in giro, insomma. Qua come potete vedere, posso andare a vedere... Queste sono tutte le caratteristiche appunto del gioco. E poi qua invece quello che succede. In questo caso la nostra meta... Non so da dove partiamo. Se partiamo dal confine con l'Austria o se partiamo praticamente da dove è Berlino. O se dobbiamo arrivare a Berlino, probabilmente. Ok, vediamo l'ora di mettere questo. Chiudiamo la portiera. Tra l'altro abbiamo, appunto, la possibilità di aprire il finestrino con la manetta. Guardate anche l'effetto della pioggia. Caro mio personale... Ah, ok, gli abbiamo aperto la portiera per lui. Ah, le chiavi! Grazie. Quindi mettiamo le chiavi qua. E siamo pronti a partire. Tra l'altro abbiamo il tachimetro, la benzina che in questo momento ci dice che non è... Non ce l'abbiamo? Ah, perché è spenta la macchina, giustamente. Quindi vediamo di usarla. E siamo pronti a partire? Ok, la macchina è partita. Prendiamo il volante. Ci stiamo muovendo! Ok, mi fermo un secondo. Allora, queste sono le quattro frecce. Queste sono... Non lo so. Questo credo sia il... Il tachicristalli? Queste sono gli abbaglianti. Che cosa abbiamo? Ah, questo è il tachicristalli. Questo è il tachicristalli? Ok, sì e no. Ok. Questo è il... In teoria è lo sbrinatore per dietro, forse. Questo apre il davanti. Questo è l'accendisigera, immagino. Poi che cosa abbiamo ancora? Abbiamo il portafoglio. E abbiamo il passaporto. E come vedete è Deutsche Demokratische Repubblica, che è il mio passaporto appunto da questa parte. Premendo Q le rilasciamo e vedete che torno indietro. E cosa molto interessante, il portafoglio appunto ci dice già quanti soldi abbiamo. In questo caso ne abbiamo 100. 100 di non si sa quale valuta. Però sappiamo insomma che le cose costano un pochino. Come vedete il gas adesso ci dice che abbiamo abbastanza gas insomma. E vediamo di andare avanti. Quindi usciamo da questa parte e andiamo. E vediamo dove arrivare. Adesso andiamo in quel di Dresden. Andiamo magari di stare dalla parte giusta. Si guida a destra qua. E andiamo. E quindi andiamo a Dresden. Quindi abbiamo l'autoban giustamente. C'è l'autostrada 13. Vediamo un po' come ce la possiamo cavare. Non so quanto bravo sarò a guidare ma... Questo è più che altro lo sneak peek per mostrarvi quello che potrebbe essere il gioco. Ci sono anche delle porte. Non so se ci sono... Se ci siano easter egg in mezzo. Ma ha anche un modo per... Sneak peek è anche un modo per dirvi. Esiste questo gioco? Andatevelo a scoprire. Perché sembra abbastanza interessante come sviluppo. Soprattutto perché è fatto da pochissimi. È fatto da una persona sola praticamente. E veramente potrebbe essere qualcosa di molto interessante. Qua si sta restringendo la carreggiata. Quindi attenzione. A proposito. Fermi tutti. Ok ci suonano forse. Questo e questo non funzionano. Tiriamo giù questo. Vorrei vedere se c'è qualcuno dietro. Ok questa è la lucetta. Tira su questo. Non riesco a vedere negli specchietti. Vabbè comunque andiamo avanti. Questa è una rotonda come potete vedere. Oh questo gioco c'è le rotonde. Abbiamo un carro armato in mezzo. Andiamo a prendere la rotonda. Non mi interessa le frecce. Non c'ho neanche le frecce su questa macchina tra l'altro. Lo faccio notare. Attenzione che comincia un po' di traffico. Siamoci lontani con il nostro trabiccolo. E vai avanti. Neanche l'autoradio c'è. Quindi vedremo un po' cosa fare. Ok quindi ti porto lungo questo. Andando verso Dresda. Passeremo il... Il... Cercoslovac. CSR. Passeremo il... Ok. Ah ok. Stiamo andando a Dresda per poter passare il confine e andare nella Repubblica Cercoslovacca. Anche se ha cambiato probabilmente ha cambiato nome recentemente. Perché effettivamente è un po' una presa in giro comunque una critica di quello che stava succedendo in questi anni qua. Di grossi cambiamenti all'interno dell'Europa. Soprattutto appunto dell'Est. Ragazzi però non è che magari... Visto che abbiamo... Esatto. Visto che sta piovendo. Accendiamo pure i cosi. Tra l'altro io sto frenando metà strada. Però appunto è un po' tosto gestire tutto quanto. Perché il bello è che guidiamo... Esatto. Adesso si chiama Repubblica Federale, Ceca e Slovacca. Perché in quel periodo lì la Cercoslovacchia era ancora unita. Doveva ancora dividersi. C'erano un bel po' di casini insomma. Dal punto di vista politico. 40 anni. Adesso il muro è caduto e hanno deciso di cambiare nome. Quindi siamo appena caduto il muro di Berlino. Quindi la Repubblica Sociale, la Repubblica Federale. Insomma sono cambiate parecchie cose nel periodo. Io sto maltrattando abbastanza la macchina tra l'altro. Perché voglio vedere anche che cosa succede alla nostra macchina. Ok. Vediamo di andare al confine. Spero di avere tutte quante le carte in regola. E assicuriamoci di non avere roba che è bandita. Per andare al confine. Che non possiamo trasportare. Perché effettivamente di quello che abbiamo abbiamo tutto. Ma se dovessimo comprare qualcosa che non possiamo far passare il confine. Ovviamente dobbiamo stare attenti a non farlo. Abbiamo già usato metà del serbatoio. Tra l'altro faccio notare come la nostra macchina. C'è scritto che va al massimo a 100 all'ora. Ma in questo momento sta andando a 70. Perché abbiamo appunto usurato un bel po' di cose. Ma vediamo pure di andare avanti. Anche perché piove insomma. Ma ci sono un sacco di piccole cose. Dovrei anche evitare un po' delle pozze magari. Che forse è la cosa migliore. Sta arrivando notte. Dobbiamo accendere le luci magari. Che sono queste. Questo ho già superato a destra. C'è qualcuno dietro ma non riesco neanche a vederlo io. Vediamo se evitiamo di fare incidenti. Ok siamo arrivati in una città. C'è un motel. Quindi magari passiamo la notte in motel. dopo che abbiamo fatto una giornata ad andare. e andremo al confine della repubblica. Della CSFR. Ceco e Slovak Federal Republic. Ci andremo tra poco. Intanto ci stanno bestemmiando dietro di tutto. Sto andando alla parte giusta? Mi sa di no. O forse stiamo andando in città. Sì stiamo entrando in città in teoria. Oh! Si è già rotto il motore. Abbiamo già disintegrato il motore. E vai! Sì ovviamente io sto giocando giusto per mostrarvelo. Cercando di fare un po' di cose. Mostrandovi quello che può succedere. Quindi vediamo di accostare appena possiamo. Credo che il motel sia quello davanti a noi. Siamo abbastanza vicini. Ditemi che siamo abbastanza vicini al motel. C'è il semaforo rosso. Proviamo un attimo a spegnere la macchina in mezzo alla strada. Per me la macchina in mezzo alla strada andiamo a vedere che cosa succede. Quindi usciamo fuori. Abbiamo aperto il cofano. Ah questo è il motel. Perfetto. Però prima abbiamo bisogno di un attimo di aprire qua. Uuuu mamma mia. Abbiamo un bel po' di problemi. Abbiamo bisogno del kit di riparazione. Ok dovremmo dovremmo comprare il kit di riparazione appena possiamo. Kit di riparazione che se non sbaglio potevo portarmi dietro ma in questo caso non l'ho utilizzato. Magari ne troveremo uno appena sarà utile. Comunque ripartiamo. Siamo quasi al motel almeno per... Lo otteniamo premuto per farla partire la macchina. Premiamo il modulante. E ripartiamo. Facciamo questo macro verde. Quindi vediamo di parcheggiare qui. Fermo. Parcheggio perfetto. Parcheggiamo proprio di traverso come solo chi ha una macchina di questo tipo sa fare. E usciamo dalla nostra macchinetta. Dal nostro trabiccolo. E vediamo un po'. Se ci facciamo dare una mano per la notte. Tra l'altro io ho dimenticato di spegnere la macchina. Giustamente. Possiamo fare anche quello. Così l'abbiamo accesa. Così l'abbiamo spenta. Voglio prendere la chiave. Intanto spegniamo questi. Verrà se no. Spegniamo la batteria. Spegniamo le luci. Posso prendere le chiavi? No. Non posso prendere le chiavi. Vabbè usciamo fuori. Almeno sappiamo che al momento abbiamo spento tutto. Così evitiamo di scaricare la batteria. Andiamo dentro. Vediamo un po' che cosa ci dicono di Balloon. Quindi la maggior parte del gioco è appunto la gestione del motore della macchina. Ma come vedete c'è anche una sorta di storia. Dentro. Abbiamo la stanza 20. Ok. Dobbiamo ovviamente. La stanza 20 è libera ma ovviamente dobbiamo pagare. Quindi andiamo a prendere il nostro portafoglio. Quindi apriamo la macchina. Prendiamo il nostro portafoglio. Prendiamo i nostri documenti. E vediamo di andare a pagare. Con quello che abbiamo. Tra l'altro se lascio il portafoglio qua in realtà dovrebbe finire direttamente dentro la macchina. Ah e sono 20 per la cosa. Va bene. Tieni. Sarai nella stanza 2B al secondo piano. Quindi vedete adesso abbiamo 80. Stai attento a non disturbare gli altri. E adesso possiamo pure andare da questa parte. Che cos'è questo? Vabbè abbiamo la chiave per la stanza 2B. Andiamo un po' dove andiamo di bello. Va al secondo piano. Con permesso. Questa è la 2B. Quindi apriamo bene la nostra porta. Possiamo entrare qua dentro. E farci la nostra prima dormita. Questo è il mio letto. Buonanotte. Ed è il 24 giugno. 1.1990. CSFR. Ungheria. Quindi abbiamo il gioco che salva a capitolo insomma queste cose. Abbiamo qualcosa nei cassetti. Diamo un'occhiata che magari c'è qualcosa interessante da prendere. Ma sembrerebbe di no per ora. E vediamo ancora di andare avanti. Se riusciamo a trovare ancora qualcosa. Quindi questo è un po' la presentazione del gioco. Mezz'oretta in cui appunto volevo parlarvi di quello che possiamo fare. Notte ancora. Il mio personaggio. Il mio amico. Probabilmente mio zio è qua dentro. Zio non è che magari dovremmo. No. A parte. A parte questo. Però sia andato tutto bene. E adesso appunto prendendo la nostra. A parte che qua ci vengono spiegate appunto come funziona la macchina. Con tutte le caratteristiche eccetera eccetera eccetera. Alcune. Alcune non le vedrete adesso perché è ancora. Ci sono ancora un po' di bug da risolvere. Comunque andando a prendere la mappa che è qua. Andando a prendere la mappa che è qua. Vedete adesso siamo arrivati al confine cecoslovacco. Che è tutta questa cosa. E adesso abbiamo 350 chilometri. Come potete vedere. Per partire da qua. E andare. In quel dell'Ungheria. Quindi stiamo tornando verso casa. Perché ovviamente questi sono. I propositi. Probabilmente siamo ucraini. O qualcosa del genere. O forse comunque veniamo dal profondo oeste. Ed eravamo appunto. Da queste parti. Questo è. Jalopy. Spero vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo appunto presentarvelo. Con tutto quello che può essere successo. Vi ho mostrato poco. Ma comunque vi ho mostrato qualcosa. Di tutti quanti gli aspetti. Dobbiamo riparare la macchina. Ovviamente immaginatevi che. Possiamo andare in una stazione di servizio. Andare a comprare le singole cose. Così come abbiamo fatto adesso. Prendere la benzina. Andarla a ricaricare. Prendere i kit di riparazione. Riparare i vari pezzi. Insomma. C'è veramente veramente tanto. E sarà molto interessante. Portarlo ancora appunto su Sneak Peek. La rubrica settimane. Che vi mostra un gioco che deve ancora uscire. O seguiamo insomma alcuni early access. Eccetera eccetera eccetera. Quindi sicuramente tornerà sul canale. Grazie ancora per la visione. Io sono Ace the Break. Namaste. Be brave. Grazie. 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 Ragazza. Grazie. 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 Grazie per la visione!